Due punti, uno è sicuramente lo stato di crisi dovuto ai mancati trasferimenti nazionali, ci sono stati dei tagli molto forti, 25% al regime addirittura oltre il 70%, quindi è evidente che il trasporto pubblico locale così non è sostenibile, perché le risorse sono la prima questione. Quindi abbiamo aperto un'avvertenza con il governo come regioni per avere queste risorse, per riavire il fondo, è chiaro che la trattativa è ancora in corso. Dall'altro lato, in particolare con il ruolo centrale delle forze sociali del sindacato, qui oggi con la Will, si discute di come affrontare la crisi, quindi non solo i problemi, ma come uscire da questo stato di crisi con tutta una serie di azioni che possiamo fare noi, di riorganizzazione del sistema dei trasporti su ferro, che come è noto si può riorganizzare, abbiamo una grande parcializzazione, abbiamo troppe società, troppi conflitti anche dal punto di vista funzionale, quindi dobbiamo riordinare, fare noi la nostra parte. Dobbiamo farlo per la parte ferro, dobbiamo farlo per la parte gomma, dove abbiamo anche lì tantissime aziende, dobbiamo riordinarla su piani di bacino provinciali, quindi fare tutta un'azione di migliore e di qualità del servizio, quindi non parliamo di tagli, parliamo di rendere il servizio ai cittadini migliore, quindi questa parte la possiamo fare noi. Con le carte in regola è più facile fare anche una battaglia nazionale per chiedere le risorse, però in questo clima non sarà facile, però penso che sia il ruolo della regione sicuramente di coordinamento e le responsabilità che chiaramente abbiamo sulla programmazione. Dovremmo coinvolgere, con il sindacato siamo su questo d'accordo, coinvolgere tutti gli attori istituzionali, quindi il ruolo più attivo che le province non hanno avuto in questi anni sul ruolo sul trasporto pubblico locale, i comuni chiaramente che in parte molti di loro sono titolari di aziende di trasporto, che devono in questa filiera istituzionale fare un lavoro comune. Questo tavolo è ben avviato e è centrale e fondamentale il ruolo delle forze sociali e del sindacato in questa crisi e soprattutto sulle proposte da come uscirne.